Buon compleanno. Michelle Unziker e gli auguri speciali a Tommaso Trussardi per il suo compleanno Michelle Unziker ha scelto un modo speciale per fare gli auguri di compleanno a suo marito Tommaso Trussardi. . Immediata una pioggia di like e di commenti alla coppia che dopo una paventata crisi continuano a vivere felici la loro vita in barba ai detrattori. Il compleanno di Tommaso Trussardi. . Ha spento 35 candeline il 6 aprile il rampollo di casa Trussardi. . Una della Maison di moda più importanti al mondo e per l'occasione la spumeggiante Michelle ha voluto condividere l'evento anche con i fan della coppia. . Uno scatto molto tenero che immortala Michelle in canotta. Nera e con occhiali da sole abbracciata da Tommaso in camicia che la guarda con gli occhi innamorati. . Un matrimonio e due figlie. . Michelle e Tommaso si sono sposati nel 2014, hanno due figlie ma di recente la show Shirley non ha fatto mistero di voler un altro bebè. . Magari un maschietto considerato che ad oggi la coppia ha due figli. . Michelle inoltre è mamma anche di Aurora Ramazzotti, avuto dal suo precedente matrimonio con il cantautore italiano Eros. . .